Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video, oggi un video rapido, velocissimo, giusto per iniziare bene la giornata Siamo qui sul mio sito, non per tutti questi articoli che non ce ne fotte niente Non per tutti questi articoli che non ce ne frega niente, ma, cioè, mi interessa se voi volete passare, link in descrizione Ma, per un semplice fatto, stanotte ho pubblicato questo articolo che è l'articolo per l'Amazon Gaming Week Da oggi fino al 3 ottobre, ragazzi, ci saranno le super offerte di Amazon, ho visto veramente delle offerte molto interessanti per essere solo il primo giorno In questo articolo, ragazzi, che trovate, basta andare sul mio sito, trovate qui, cliccando qui, le offerte in tempo reale, cioè quelle aggiornate del Gaming Week Trovate l'elenco dei prodotti che aggiornerò giornalmente, quelli che secondo me sono più interessanti Potrebbero scadere alcuni perché magari sono offerte lampo Questi, ragazzi, sono, secondo me, le migliori Ci sono monitor curvi, questo qua, ragazzi, è veramente ottimo Questo qua da 24 pollici, curvo, 144 Hz, un millisecondo di risposta Questo è un ottimo monitor da Gaming, lo consiglio È FreeSync, quindi, chi è interessato, anche FreeSync è un ottimo monitor Costa intorno ai 270€, ragazzi, se siete interessati, approfittatene perché veramente è un'occasione unica Ci sono anche le Asus Predator, gli SSD SanDisk, ottimi sconti Dei mouse della Razer e queste, ragazzi, queste le batte tutte L'Asus GTX Strix 1050 Ti Ha un prezzo intorno ai 150€ Se non ricordo male Andiamo a vederlo insieme No, sono 174€ Era 150€ stanotte, ne sono sicuro Ma comunque ancora è in offerta È disponibile purtroppo dal 30 settembre perché si sa c'è poca disponibilità Comunque potrete ordinarla tranquillamente Vi ricordo, ragazzi, che Qualora C'è anche, ah, dimenticavo La PlayStation 4 500GB con in esclusiva solamente per Amazon FIFA 18 Quindi se siete interessati, ragazzi, mi raccomando Questo è un ottimo prezzo Dovrebbe costare intorno ai 270 Sì, 279 Ed è esclusiva Amazon È in offerta Quindi, ragazzi, termina questa offerta fra 11 ore Quindi, mi raccomando Se siete interessati, andate a cliccarci Vi ricordo che potete semplicemente cliccare su questi link E andare direttamente alla pagina Amazon Quindi non c'è nessunissimo problema In descrizione troverete sia il link per acquistare Come clienti Prime Gratis per 30 giorni Poi lo dovrete disattivare Sia il mio Amazon Se acquisterete tramite quel link Darete una percentuale pure a me E mi sosterrete Vi ringrazio tantissimo per il supporto Spero che questo video Vi possa servire Perché ho visto che non c'è stata una grande pubblicità Di questo Amazon Gaming Week Sono stato io, forse, l'unico stanotte Che ne ha parlato A mezzanotte e mezza O l'una Mi ricordo quando è che ho pubblicato questo articolo Ho pubblicato anche la cosa su Instagram Ricordate che servimi su Instagram Perché le offerte migliori Potrei anche postarle lì E voi rimarrete sicuramente aggiornati Benissimo ragazzi Per questo video di oggi è tutto Ci vediamo Ad un prossimo video